Fai fatica a scendere durante lo squat? Potrebbe essere un problema di mobilità. Ciao e benvenuti in questo nuovo video di FitnessX. Oggi ti abbiamo portato una chicca straordinaria, cioè ti aiutiamo a sbloccare il tuo squat. Finalmente, Luca, perché io sono bloccato il tuo squat? Allora, vi riguardare, vi riguardare perché abbiamo preparato una routine speciale con la nostra trainer Antinea Gualtieri, che è proprio specializzata in mobilità per l'allenamento con i pesi. Routine che servirà proprio a sbloccare i tuoi femorali e permetterti di scendere molto di più. Questa routine fa parte del nostro percorso Power Mobility, che è il nostro primo corso specifico per sbloccare tutti i tuoi massimali attraverso proprio delle routine di mobilità. Quindi adesso Giulia, cosa facciamo? Quindi adesso ti lasciamo con Antinea che ti mostra la routine per sbloccare il tuo squat. Routine dedicata ai nostri femorali. Per questa routine ci serviranno due mattoncini oppure due rialzi, come anche dei libri ad esempio, e un bastone, va benissimo anche un manico della scopa, se non abbiamo altro. Partiamo! Nel nostro squat completo, mani a terra, poggio i polpa strali per avere più spazio. Da qui comincio a spingere in alto il bacino, distendo il più possibile le gambe senza staccare le mani da terra e torno nella mia cosciata. E ancora per nove e giù. Otto. Poi ci portiamo in piedi. Andiamo a prendere un rialzo o un mattoncino. Quello che abbiamo lo portiamo all'inizio del nostro tappetino. Partiamo col piede destro. Porto il piede destro sul mio mattoncino tallone a terra, piede a martello, passo indietro con la gamba sinistra, anche linea fra di loro in avanti. Entrambe le gambe sono tese, forti e attive qua, mani davanti a supporto, scendo con la schiena dritta quanto riesco, porto il peso in avanti per attivare bene il femorale e torno. E ancora per nove. Otto. Schiena dritta, gambe tese. Vado a sinistra. Quindi questa volta appoggiamo il piede sinistro a terra. Tallone sul tappetino, piede a martello, passo indietro col piede destro e mi assicuro sempre di avere le anche in linea frontali davanti a me. Braccia davanti, gambe forti. E attive qui. E scendo, schiena dritta. Stesso allineamento di prima. Quindi passo indietro con la sinistra, gambe su due linee diverse, anche parallele fra di loro. Questa volta scendo quanto riesco, vado a portare il minilo destro sul mio alluce. Crea una piccola impalcatura qua che mi servirà per misurare la distanza che ho al mio piede. Quindi facciamo pulsazioni verso terra e vedo se riesco a toccare con la fronte, idealmente al mio piede. ma noi andiamo al nostro pollice prima. Quindi scendo per dieci, nove, otto, torno e andiamo dall'altro lato. Stesso movimento, riporto il piede sul mattoncino, tallone a terra, piede a martello, passo indietro con il destro. Questa volta uso la mia mano sinistra per segnare la distanza che ho. Se due mani sono troppe, posso usarne anche solamente una. Pulsazioni, quindi verso il mio piede, per dieci, nove, otto, sette, e torno. Quindi le mani ci servono semplicemente per misurare la nostra progressione. Riparto sempre con la destra in avanti. stessa posizione di prima, però questa volta il piede è a terra, anche in linea fra di loro. Scendo con la schiena parallela al tappetino, mani a terra. Se non arrivo, posso sempre usare i miei supporti laterali per mantenermi parallelo con la schiena a terra. Lavoro sulla gamba davanti, questa volta vado a sollevare il piede, riporto il piede giù e sollevo il tallone dietro. Quindi sollevo la punta, le piede davanti, torno, sollevo il tallone dietro. E ancora otto, cinque, schiena resta dritta. Mi fermo e vado dall'altro lato, quindi passo in avanti con il sinistro, passo indietro con il destro, posso sempre mantenere le mani sui miei supporti. E ricomincio sollevando il piede davanti, torno, sollevo il tallone dietro. E ancora per nove, otto. Torniamo sempre nella stessa posizione, quindi parto con il piede destro davanti, lavoro su due linee diverse per avere più stabilità, piede sinistro indietro, anche sempre frontali in linea qui. Mani davanti a me a supporto, comincio a scendere piegando il ginocchio sinistro, la gamba destra resta tesa, il piede è attaccato a terra. Quindi scendo, scendo anche con la schiena, cerco di portarla dritta, parallela a terra. E torno ridistendo. Ancora per nove, su, otto, su, sette, spingo indietro, il bacino non stacco il piede, su, uno, resto giù, questa volta lavoro con il piede, vado a staccare la punta del piede, e a riportarlo giù. Ancora per nove, otto, sette, uno, resto col piede a martello, pulsazioni per scendere ancora di più, schiena dritta, per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e torno, e andiamo direttamente a sinistra, ripetiamo questa sequenza, quindi passo in avanti col piede sinistro, passo indietro con il destro, mi assicuro di avere sempre le anche linee a fra di loro. Questa volta andremo a piegare la gamba dietro, quindi gamba destra, gamba sinistra, resta attesa, attiva e forte, piede radicato a terra, mani davanti a me, piego il ginocchio destro, scendo bene indietro col bacino, schiena parallela a terra, e torno e ridistendo, ancora nove, otto, ferma, 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 ti ricordo che questo video che stai vedendo, e quindi questa routine di mobilità, fa parte del nostro percorso Power Mobility, che è stato realizzato insieme a Dantini, bravissima Dantini che hai visto fino ad ora, e che trovi qua sotto, cliccando sul link, è un percorso fatto appositamente per sbloccare i tuoi massimali, se ti alleni con i pesi, quindi mi raccomando, vai qui sotto, non lo perdere, e scopri di più. Resto giù, lavoriamo con il piede sinistro, sollevo, e torno, ancora nove, otto, uno, resto col piede a martello, quindi punta sollevata rivolta verso il cielo, pulsazioni verso terra con la schiena dritta, per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e torno. Poi ci portiamo a terra, avviciniamo i nostri supporti, che ci potranno servire. passo in avanti con il piede destro, quindi trovo un affondo basso a destra, mani sui miei mattoncini, alterno due movimenti, quindi affondo bene in avanti, e torno indietro, distendo la gamba, piede a martello, affondo, e torno. resto con la gamba destra distesa, piede a martello, mantengo le mani sui miei supporti, e cerco di staccare il tallone, staccare la gamba destra, per cinque, quattro, tre, due, uno, mi fermo, torno in avanti, posso spostare i miei mattoncini, apro un po' di più lateralmente il mio piede destro, mani all'interno, schiena dritta, da qui, vado a piegare, raccogliere il ginocchio sinistro, per dieci, nove, cerco di portare il tallone verso il gluteo, otto, mi fermo, e andiamo a sinistra, quindi ritroviamo il nostro affondo basso a sinistra, e riprendiamo i nostri mattoncini a supporto, passo in avanti col piede sinistro, distendo bene la gamba destra dietro, alterno, mi sposto dal mio affondo, distendo la gamba, sollevo il piede a martello, affondo, gamba tesa, resto con la gamba sinistra tesa, piede a martello, mi aiuto con il mio supporto, andiamo a staccare il tallone e sollevare la gamba quanto riusciamo, per cinque, quattro, con controllo, tre, due, uno, torno, riaffondo bene in avanti, spostiamo di nuovo i nostri mattoncini, apriamo un po' più lateralmente il nostro piede sinistro, mani all'interno, prima allungo bene la colonna in avanti, e poi andiamo a raccogliere il ginocchio destro, per dieci, nove, tallone al gluteo, otto, mi siedo, a terra, piedi davanti a me, aperti un po' più rispetto alle mie anche, vado ad abbracciare le mie caviglie passando dall'interno, allungo bene la colonna qui, trovo spazio, poi lascio le mani all'interno, vado a distendere e calciare la gamba destra, torno, gamba sinistra, torno, cercando di non inclinarmi indietro, ancora tre, poi resto sempre seduto a terra, distendo entrambe le gambe, andiamo a raccogliere il ginocchio sinistro, pieghiamo la gamba destra, creiamo una sorta di cestino, con le nostre mani intrecciate, stacco il tallone destro, cerco di passare il piede all'interno senza toccarlo, distendo la gamba, torno, raccolgo, e ridistendo, ancora, trovo spazio, distendo, torno, e distendo, ancora tre, un'ultima volta, e questa volta, agganciamo il nostro piede, e poi distendiamo la gamba, raccolgo il ginocchio al petto, calcio il tallone, distendo la gamba, la porto il più vicino possibile, raccolgo, e distendo, cerco di mantenere la schiena dritta, ancora cinque, lavoriamo con la gamba sinistra, reintreccio le mie mani, stacco il tallone sinistro alla terra, cerco di far passare all'interno la mia gamba, la distendo, raccolgo, e ridistendo, e ancora per quattro, tre, un due, uno, e questa volta, afferro bene il mio piede, porto prima la coscia al petto, poi calcio il tallone, distendo la gamba, e torno, mantengo la schiena dritta, per quanto possibile, e torno, e ancora cinque, quattro, tre, due, uno, e mi fermo, finiamo la nostra routine, massaggiando i nostri femorali, quindi prendiamo il nostro bastone, andiamo a sederci sui nostri talloni, e portiamo il bastone all'interno, partiamo, da sotto le nostre ginocchia, mani ai lati, esercitiamo un po' di pressione, e comincio, a scendere, come se mi volessi sedere, porto il peso qui, e comincio a, srotolare, il mio bastone, mi posso soffermare, sui punti in cui sento maggiore tensione, se mi siedo, ovviamente, la pressione è maggiore, sento di più, quindi piano piano srotolo, e massaggio, il polpaccio, e il femorale, senza fretta, e piano piano arriviamo poi, in fondo, quando arriviamo, verso il nostro tallone alla caviglia, magari oscilliamo un po', portiamo un po' di peso qui, spingiamo indietro, allunghiamo bene, e poi ci fermiamo, e abbiamo finito. Ciao, sono Antina Gualtieri, ti do il benvenuto ufficiale, in questo videocorso. Sono un'insegnante di yoga, da più di 5 anni, insegno vari stili, mi sono poi specializzata, anche nel movimento in generale, in particolare, sulla mobilità, per chi si allena con i pesi. ho cominciato a insegnare mobilità, per chi si allena con i pesi, anche in box di crossfit. I ragazzi, da quando si allena con me, hanno riscontrato vari benefici, fra cui il primo, sicuramente, è un miglioramento delle prestazioni, quindi sollevano di più, riescono a scendere più fluidamente, in uno squat, e anche più in profondità. Poi, sicuramente, c'è un recupero molto più veloce, dopo un allenamento. Inoltre, cosa ancora più importante, il numero di infortuni, è diminuito drasticamente, in questi anni. Questi sono gli stessi benefici, che proverai anche tu, seguendo il videocorso. Grazie a tutti.